La riforma sull'autonomia differenziata affosse il mezzogiorno. Sono parole di Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, che con l'intero Consiglio regionale ha votato la mozione di indizione di un referendum popolare in materia. La Regione Campania ha votato con il Consiglio regionale i quesiti che adesso sottoponiamo alla firma degli elettori. La firma servirà non per aggiungere qualcosa in più sul piano giuridico, ma per far sì che ci sia una larga conoscenza di massa di una riforma che affossa il mezzogiorno e rende questi divari incolmabili. Noi abbiamo da recuperare competitività rispetto alle regioni del centro nord e in questo momento questa riforma crea ulteriori problemi di occupazione, di demografici, di sviluppo per le popolazioni meridionali. Il nostro compito è far capire alle persone quali sono queste ragioni e soprattutto mobilitare tutte le energie e le risorse per raccogliere le firme sufficienti a varare questo referendum e poi ad avere il quorum per poter affossare questa riforma.